Sotto legida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si concretizza una più stretta collaborazione scientifica tra l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e il Ministero della Salute della Tunisia. Un progetto di quattro anni che permetterà di studiare ed evidenziare nuovi patogeni e formare ricercatori tunisini al sequenziamento del SARS-CoV-2. L'IZS dell'Abruzzo del Molise collabora con la Tunisia già da 15 anni nel campo della veterinaria e dell'agricoltura. Da oggi si farà ricerca anche a favore dell'uomo, nell'ottica del One Health, un'unica salute. Direttore, in che cosa consiste questo accordo con la Tunisia? Questo accordo è il frutto di un viaggio che abbiamo fatto con il direttore sanitario a Tunisi, dove abbiamo preso contatto grazie all'ambasciatore Fanara, l'ambasciatore italiano a Tunisi, con l'OMS, l'ospedale Sharnikol e l'Istitut Pasteur di Tunisi. Praticamente è uno scambio di materiale biologico sul quale faremo diagnosi avanzata, la ricerca di nuovi patogeni, patogeni emergenti cosiddetti, scambio di informazioni tra noi e loro. Formerete anche dei loro ricercatori? Abbiamo già cominciato, continueremo con degli scambi intensi, sia di tunisini che verranno a lavorare qui da noi e noi che andremo in Tunisia a fare le nostre attività. Questo passaggio che stiamo facendo in questi giorni è fondamentale perché, per esempio, in Tunisia da 15-20 anni lavoriamo stabilmente, ma abbiamo sempre lavorato con il Ministero dell'Agricoltura e con i servizi veterinari. Oggi passiamo al Ministero della Salute, agli ospedali e supporto agli ospedali come abbiamo fatto qua a Teramo e in Abruzzo, nell'ottica del One Health. Collaborazione, scambio di informazioni tra scienziati dell'IZS di Teramo e dell'Istituto Pasteur di Tunisi, ricerca e formazione. Saranno questi i pilastri dell'accordo che migliorerà sensibilmente la vita dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Questo è sicuramente un progetto innovativo che guarda al futuro ed è un progetto che ha la bellezza di apportare dei vantaggi all'una e all'altra parte. Quello che viene detto è un progetto win-win, è tra pari. Grazie. Grazie. Grazie.